Nocera Inferiore sarà il primo comune della campagna a battersi apertamente contro la meningite B. Il documento unico di programmazione approvato ieri dal Consiglio Comunale ha dato il via libera a una misura fortemente voluta dal Partito Democratico, in particolare dal Presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile. In pratica saranno messe in campo azioni volte al finanziamento della vaccinazione al momento a pagamento contro la meningite B ai bambini nati fino al 2018 delle famiglie meno abbienti. Lo Stato riconosce la vaccinazione gratuita ai nati dal 2017. La Regione Campania ha allargato il provvedimento ai ragazzi che hanno compiuto 13 anni. Resta fuori la fascia intermedia che dunque potrà essere coperta dal Comune. Per quanto riguarda la vaccinazione della meningite B siamo in un impasse perché mentre il Piano Sanitario Nazionale l'ha messa gratis per i nati dal 2017 in poi e la Regione con una recente delibera del 25 marzo, la resa gratis per i 13 anni, abbiamo tutta una popolazione che è nata dal 2016 fino a quelli che combino 13 anni che devono ancora pagarla e costa circa 75 euro a somministrazione. Ovviamente noi del Partito Democratico abbiamo proposto nel DUP di far sì che il Comune sia ad operi per finanziare questa vaccinazione in questa fascia di età in cui dovrebbero pagarla perché molti, soprattutto i meno abbienti, non possono farla ed è, si sa che la meningite B ha una maggiore incidenza nell'età al di sotto di 10 anni e nelle fasce più deboli. Nocera Cardioprotetta è invece il secondo provvedimento sanitario che i democratici hanno chiesto di inserire nel documento unico di programmazione. Sarà potenziata la presenza di defibrillatori dal centro alla periferia, in particolare nei luoghi pubblici di maggiore fruizione come gli impianti sportivi. Nocera Cardioprotetta è un'altra proposta del Partito Democratico che è sulla dirittura di Aldiva, stiamo ultimando le procedure, praticamente si tratta di mettere dei defibrillatori in diverse piazze della città distribuiti tra centro e periferia e quella di creare dei corsi coordinati per la rialimazione in modo che ci possono essere tante persone che siano in grado di usare questi defibrillatori a meglio in caso di necessità.